Ciao, benvenuti in questo nuovo video di Nintendogs Bassotti e Amici. Amici. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo bene. Si chiama Charlie ed è un Yorkie Shy. E' molto carino. Allora, hanno moltissima fame. E' molto carino. E' molto carino. Avevo intenzione di far vedere tutti gli oggetti che ho. Però prima devo dare da mangiare ai cagnolini. Allora, hanno mangiato. Adesso già hanno sete. E' molto carino. E' molto carino. E' molto carino. E' molto carino. Allora, questi sono gli oggetti che ho. Allora, andiamo agli sport. tutti questi. E' molto carino. qui, dal palloncino, fino all'elicottero da guerra. Poi accessori. A me piace molto il collare portafortuna e quello giapponese. Poi ho i cappelli. Poi ho i cappelli. E' molto carino. E' la musica. Questi. Questa. L'orologio. Questi qua. Io però mi lascio sempre quello moderno Cioè quello normale Perché gli altri non mi piacciono assai E questi sono Altro Dove sta nella categoria altro E niente Grazie Alcune volte quando li vuoi accarezzare Non si stanno proprio fermi Ecco fatto Beh questo video si può concludere qui Insomma li ho curati E vi ho fatto vedere tutti gli oggetti che ho Probabilmente in un prossimo video Magari vi farò fare delle passeggiate Eccetera eccetera Beh si può concludere qui questo video E alla prossima